Sulla scia della protesta dei risparmiatori di Banca Etruria, beffati dal decreto salva banche e divenuti il simbolo dello spettro, dei soldi andati in fumo, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che solo nella provincia dell'Aquila conta circa 6.000 correntisti, annuncia pubblicamente la sua solidità, nonostante il coinvolgimento nel salvataggio delle banche interessate allo scandalo. Partecipiamo anche noi della Banca di Credito Cooperativo di Roma al salvataggio della Banca Etruria, ma a differenza di altre banche lo facciamo con soldi nostri e paghiamo così errori commessi da altri. Queste le parole del Vice Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Gabriele Gravina. Non solo la Banca di Credito Cooperativo di Roma, ma tutto il sistema bancario, e non solo per la Banca Etruria ma per le quattro banche che abbiamo ben note in questi giorni. Quindi è un fondo di solidarietà al quale parteciperanno tutte le banche. L'anomalia o la tipicità di questo intervento è che le banche di credito cooperativo al loro interno hanno un fondo di solidarietà proprio e quindi intervengono puntualmente quando ci sono problemi di questo tipo all'interno delle banche di credito cooperativo. È atipico il doverlo fare anche per banche estranee al sistema del credito cooperativo. Quello che si è riunito oggi è il Gota della Banca di Credito Cooperativo di Roma, con l'intenzione di rassicurare tutti i suoi risparmiatori e rinsaldare ogni rapporto economico e sociale con i correntisti. Così Lorenzo Santilli, direttore della BCC Roma, l'Aquila. Santilli, lei ha parlato di una banca, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, solida. Che significa? Solida significa che ha i numeri per garantire a tutti i nostri clienti e soprattutto ai nostri soci la garanzia di poter stare tranquilli perché i numeri che noi rappresentiamo e che noi abbiamo garantiscono questa solidarietà e questa forte patrimonializzazione che ci fa essere al terzo posto fra le banche più solide di media dimensione e fra le banche più solide d'Italia.